Musica Il venerdì 27 novembre si venera a San Virgilio di Salisburgo. Irlandese d'origine, Virgilio svolse gran parte della sua attività in carizia a Salisburgo come vescovo, con il compito di evangelizzare e pacificare il Ducato di Baviera da poco conquistato. Nella terra natale, Virgilio aveva fatto esperienza monacale fino a giungere alla carica di abate in un importante monastero. Nonostante fosse uomo provvisto di grande cultura teologica e scientifica, la sua elezione a vescovo non trovò il consenso di San Bonifacio, legato papale in Germania. Redarguito da Papa Zaccaria, Virgilio obbedì con umiltà, abbandonò le dispute teologiche dedicandosi con zelo all'organizzazione della sua diocesi. Fu instancabile nell'educazione religiosa del popolo e nell'assistenza ai poveri. Nel 774 inaugurò la prima cattedrale della città, nella quale trasferì le reliquie del primo vescovo, San Ruperto. Oltre a ciò, curò la fondazione di numerose abazie, quella di San Candito ad esempio, estendendo la sua attività missionaria in altre regioni. Morì nel 784, ma solo nel 1233 venne ufficialmente riconosciuta la sua santità. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo. Vediamo la pagina del Corriere della Sera, è la pagina della Repubblica. Iniziamo con il Corriere della Sera, che oggi apre con, dopo gli attacchi di Parigi, Hollande a Putin, raid comuni in Siria e la Germania in via Tornado e Navi. Vediamo ancora avanti, Verona, Poletti, laurearsi con la Lode a 28 anni non serve a un fico. Le sue parole nel video e le ironie sul web, su Twitter. Intanto l'ira dei giovani, lui non è laureato. Ed ancora la vicenda. Shalabaieva fu sequestro, indagati, questore di Rimini e capo dello SCO. E il sequestro, l'accusa che i PM di Perugia contestano per il caso Shalabaieva, la moglie del dissidente Cazzaco, Abliazov, espulsa dall'Italia. Agli indagati sarebbe stata notificata un'informazione di garanzia. Ed ancora a Roma, Orlando, misure antiterrorismo, intercettare PlayStation e chat. Il ministro della giustizia ha avvertice sulla sicurezza pronti 150 milioni, potenziare gli strumenti per intercettare e rafforzare la capacità di capire. Serve anche maggiore cooperazione tra le procure europee. Alfano, espulso marocchino di 35 anni che viveva a Milano, il ministro dell'Interno a Rai 2, soggetto pericoloso per la sicurezza nazionale, con quello di oggi 61, le persone espulse dall'Italia dalla fine dell'anno scorso. Poi il ministro ha aggiunto, abbiamo evitato che si verificasse un attentato. E ancora operazione antiterrorismo, Berlino, raid in moschee, due arresti, Bruxelles ridotto livello d'allerta, allarme per buste con polvere bianca in una moschea in Belgio, era soltanto farina per perquisizioni a Namur, Trieste, sequestrati 800 fucili diretti proprio in Belgio. E vediamo ancora avanti, a gennaio torneranno nel museo recuperati a Campione d'Italia, cinque affreschi trafugati a Pestum. Erdogan, non mi scuso, con Putin, Mosca, Russi, lascino la Turchia, Turchia-Russia, la tensione per il jet abbattuto. C'è chi sostiene che compriamo petrolio dall'Isis, è tenuto a provare queste accuse. La crisi pesa anche sull'economia, Mosca raccomanda il rimpatrio ai connazionali in Turchia, un gruppo imprenditori turchi fermati intanto in Russia. E il jet russo abbattuto dai turchi, fuga nei boschi e commando, così si è salvato il pilota, eroe, il capitano ricoverato in un ospedale siriano dopo che è stato trovato e salvato dalle forze speciali di Assad e escluso che siamo sconfinati. E la crisi globale è uno Stato sunnita per battere l'Isis sulle ceneri di Siria e Iraq. L'idea di dar vita a un sunnistan al posto di Siria e Iraq garantendo una nazione kurda è un enclave alla Uita. Corriere Veneto, l'ex assessore, femminicidio non esiste, sono più le donne che uccidono gli uomini. Infelice, post su Facebook di Stefano Valdegamberi, consigliere regionale della lista Zaia presidente ed ex assessore al sociale. Pioggia di critiche, offende tutte le famiglie ferite dalla perdita di una figlia, una madre, una sorella. E il post, ricordiamo, è stato fatto proprio nella giornata contro la violenza sulle donne. Video inchiesta, cellulare e bancomat dei tuffatori, 15 euro per 5 secondi di chiamata. Quello delle truffe telefoniche, un business da 600 milioni di euro l'anno, sotto accusa diversi operatori telefonici. Dall'Agicom si ha sanzioni per 10 milioni di euro. Ferrara, signora, lei è morta. La sfida di Gaetana, la burocrazia, una 44enne, combatte contro l'anagrafe, scambiata per una novantenne, scomparsa nel 2012. Da tre anni non esiste, ma ora per lo Stato sarebbe risorta. Clima a rischio, catastrofe, se prevale l'interesse privato. Nairobi, il Papa parla all'ONU in Africa. Secondo giorno di Papa Francesco in Africa, dopo la messa con un milione di fedeli, parla alla sede ONU a pochi giorni dalla conferenza di Parigi. serve un accordo globale. Ed ora passiamo alla Repubblica. Vediamo come apre rispetto al Corriere della Sera. Repubblica.it, le notizie. Quindi da il quotidiano online, la Repubblica che parla della guerra all'IS, Germania in via, navi e aerei, Putin apre, si ad alleanza, anche a guida USA. distanza su Assad, Renzi a Hollande, ampliare coalizione Orlando, intercettazioni anche su chat e a Playstation. E il caso Chalabayeva, indagati il capo dello SCO è un questore per sequestro di persona, l'inchiesta sull'espulsione della moglie del dissidente kazako, Ablia Zov. Il PD, l'ultimo assedio a Giuliano Pisapia, Renzi vedrà il sindaco di Milano, Gelo, con Sala ed ancora Berlino, polizia in Moschea, due arresti per attacco in preparazione, Belgio, Abaud e gli altri, schedati da giugno, Bruxelles, livello allerta scende da 4 a 3 in Italia, ha espulso un marocchino residente a Milano. Intanto un falso allarme, Antrace è evacuato, Moschea, capitale belga. Ed ancora il Papa, mai più Dio a giustificare violenza, accesso a farmaci con, non penalizzi, i poveri, basta egoismi, spero accordo globale sul clima. Con la nostra musica di nuovo al Bataclan, gli Eagles of Deep Metal, dopo gli attentati di Parigi, per primi ancora su questo palco. E in Siria Putin, Ankara vuole lo scontro, appello ai russi, lasciate la Turchia, Erdogan non ci scuseremo, siamo nel giusto dal Cremlino. Intanto avevamo avvisato gli USA sui nostri aerei. Prova a scappare, uccisa la diciassettenne austriaca, affiliata lì in Siria, la trasformazione delle teenager reclutate. Nel 2014 era fuggita verso Raka, con un'amica. E attacchi ancora Skinny's in dieci sedi Caritas, aiutano le orde di immigrati, Don Visconti, noi andiamo avanti, minacce, slogan su gli ussoli, in Lombardia. Intanto la storia si ripete, attacchi in Emilia e Veneto, anche a sedi del Partito Democratico. Truffa i Francescani, il broker si è ucciso, Leonida Rossi, 78 anni, suicida in casa, era coinvolto nell'indagine milanese, su presunta appropriazione e indebita, ai danni dei frati. E il campionato dei 3.000 scienziati italiani, biomedici e fisici, classifica delle star della ricerca. Ancora Poletti, meglio laurearsi in fretta, con voti bassi, i nostri giovani, troppo tardi al lavoro, preferire un 97enne a un 21enne. Ed infine vediamo, droghe, OGM, dopata e quasi pesante, ecco che marijuana si spaccia in Italia, Saviano, unica strada, e legalizzarla, analisi su campioni rilevati da Milano, a Reggio Calabria, l'uso in Italia e nel mondo, l'infografica, insomma, riportata nel sito della Repubblica. Ed ora passiamo al messaggero, vediamo oggi come apre il messaggero, prendiamo l'edizione dedicata all'Abruzzo, ma continuiamo con le notizie nazionali e dal mondo. E quindi, prima pagina, si allarga la coalizione anti-ISIS, la Germania invierà in Siria aerei e navi, Putin, Hollande, collaborazione anche a Guida USA, Renzi a Parigi, noi già in prima linea, niente bombe, priorità alla Libia, Londra verso i Raid. E il blitz della polizia, Berlino, arresti in Moschea, preparavano attentati, ancora servizi sotto accusa, stragi Parigi, Salah e Abrini, schedati dai Belgi a giugno. L'allerta in Italia, intercettazioni su chat e videogiochi, espulso marocchino, sospetto a Milano. Ed ancora, vediamo sulle ferrovie, azzerato il vertice, arriva il nuovo CDA per la privatizzazione, sarà Mazzoncini a guidare le ferrovie, prevista la quotazione in borsa del 40%. Entriamo all'interno del messaggero, guerra al califato, asse Hollande, Putin, Mosca apre agli USA, vertice al Cremlino, il presidente russo, pronti a cooperare con un'alleanza guidata dagli Stati Uniti. Cameron chiede al Parlamento l'ok ai bombardamenti. Ed ancora, Erdogan, niente scuse, la Russia arresta 50 imprenditori turchi. vediamo ancora Merkel, non stiamo a guardare navi e aerei in Siria contro l'Isis, la cancelliera, non si combattono i iadisti con le parole, ma con le armi, saranno inviati da 4 a 6 tornado di supporto, ma non bombarderemo. E vediamo ancora le indagini, Berlino, arresti in Moschea, preparavano attacchi, due in manette, ma si esclude un piano per colpire la capitale in Belgio, scambiata farina per Antrace. Renzi all'Eliseo, uniti contro l'Isis, ma già è la Parigi, priorità alla Libia, il premier conferma il no a un convolgimento nel raid sulla Siria, possibile solo un eventuale aiuto ai francesi in Libano. Il focus missioni militari UE, Italia prima con 5.700 uomini. Intercettati anche i videogiochi, Milano espulso un marocchino, vertice con il guardasigilli, potenziata la cyber security, dubbi sul reato di clandestinità. L'annuncio di Alfano, mandato via un soggetto pericoloso, evitato un attentato. Ed ancora nel taglio basso, vediamo l'intervista, l'Islam non sa stare in minoranza, e la Francia ha fallito sull'integrazione, gli attacchi in Israele e quelli in Europa, in Europa sono due cose completamente diverse, ha dichiarato così. Quindi nell'intervista, Abrama, Yehoshua. Ed ancora in primo piano, il viaggio, Dio non giustifica violenze, clima, patto o catastrofe. Monito del Papa da Nairobi, basta usare il suo nome per l'odio, la sfida ambientale. In 300.000, la messa tra pioggia e fango, l'imam agisce per il bene dell'umanità. Ed ancora flop servizi, Salah già schedato a giugno, con il complice Abrini, era nell'elenco dei sospettati pericolosi, stilato dall'intelligence del Belgio, ma nessuno li ha controllati. Ieri evacuata la grande moschea di Bruxelles, per un allarme antracce, ma era farina, nuovi blitz nel paese, nessun arresto. E vediamo in breve, Varese vieta il Burga, niente velo per i dipendenti pubblici, diretti in Belgio, ancora a Trieste, scoperto un carico di 800 fucili. L'intervista, la religione non c'entra granché, i reclutatori fanno leva sull'ignoranza. Il cineasta, sul caso Molenbeek, paghiamo la scarsa integrazione, molti giovani musulmani si perdono. Ed ancora, il governo offre l'Italia, S.P.A., i grandi investitori globali, Renzi, Padoan, Guidi e Gentiloni a cena, con il gota della finanza internazionale, nel Summit a Villa Madama, non meno di 50, tra banchieri e imprenditori, di tutto il mondo. Ferrovie, si dimette il CDA, nuovi vertici per la borsa, finisce dopo soli 18-17 mesi, la gestione di Elia Messori, arriva a Mazzoncini, le nomine già nella prossima settimana, il 40% del gruppo, a Piazza Affari, nel 2016. E intanto, i sindacati si dicono preoccupati, dalle mosse del governo, e Bersani attacca, poca chiarezza, si rischia un pasticcio. E la sfida privatizzazione, resta da sciogliere il nodo della rete, tra Padoan e del Rio, rimane ancora una differenza di vedute, su come garantire i binari, che i binari rimangano pubblici. E ancora il rebus del valore, dell'infrastruttura, troppi 35 miliardi contabilizzati nel bilancio, l'ipotesi della svalutazione. Ed ancora avanti, vediamo sempre in primo piano, la TV pubblica, Rai, niente stretta sui TG, è un nuovo super direttore, riunione fiume del CDA, Campo dall'Orto, annuncia l'arrivo di Verdelli, a capo delle news. Cotone guiderà l'ufficio legale, Coldagelli portavoce, Lusi Grai protesta, troppi esterni. Ed ancora, vediamo il retroscena, partito della Nazione, al Via Maicaos PD, sulle primarie, con nuovo centrodestra, alle Udc, nasce il comitato per il Sia le riforme, prima pietra per la casa comune, sinistra dem in trincea, no all'Aleanza organica, con i centristi, già alle comunali. E il caso, laurearsi a 28 anni con l'Ode, non serve a un fico, bufera su Poletti e ragazzi, l'università lui non l'ha finita. Andiamo ancora avanti, nelle cronache, mafia capitale, prefetti, ministri ed ex sindaci, sfilata di testimoni big, da Gabrielli a Poletti, da Alemanno a Marino, tra i testi, accolti dai giudici, caso Ozzimo, per un errore, il comune non sarà parte civile. E la storia, signora, lei è morta da tre anni, Gaetana, ostaggio della burocrazia, ed ancora nel taglio basso, la tragedia, il buco da 50 milioni dei francescani, si uccide il broker indagato a Milano. Cialabayeva, indagati capo Sco, è un questore, PM di Perugia, titolari dell'inchiesta, sull'espulsione della moglie, del dissidente Cazzaco, con la figlia di sei anni, fu un sequestro, sotto accusa cortese, in prota, cinque agenti di polizia, e il giudice di pace, lavore. Secondo la Cassazione, ci fu troppa fretta. Vediamo in basso, la salute, allarme ai DS, in Unione Europea, mai così tanti contagi, quota 142 mila. Ed ora la prima pagina, dedicata all'economia, debito e competitività, faro UE sull'Italia, il nostro paese, nel 2016, rimane un sorvegliato speciale, Moscovici, c'è il rischio di un, di non conformità con il patto, in bilico, la flessibilità su investimenti, e migrazione, Germania, sottotiro per l'elevato surplus commerciale. Nel taglio basso, vediamo il PIL pro capite, al nord ricchezza doppia, rispetto al sud, visco, poche politiche attive sul lavoro. Vediamo nel sommario, va in testa in Lazio, in Lazio tra le sette regioni che hanno agganciato la ripresa nel 2014, balzo del PIL, più 1,4%, e degli occupati, più 3%. E così con la pagina dell'economia, dal messaggero, ci fermiamo per il consueto appuntamento con Giovanni De Palma, di abruzzometeo.it e abruzzometeo.org, oggi più che mai per le previsioni del tempo. Giovanni De Palma, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Buongiorno, detto oggi più che mai, perché si comincia a sentire veramente il freddo e poi da ieri pomeriggio piove ininterrottamente. Giovanni, quali sono gli aggiornamenti? Sì, Elisa, piove ininterrottamente, da ieri con delle precipitazioni davvero intense e persistenti, soprattutto sul settore centro-orientale della nostra regione, dove nelle prossime ore continuerà ad insistere il maltempo caratterizzato da piogge diffuse, intense e persistenti, soprattutto sulla fascia orientale, lungo la fascia costiera, con forti venti di bora e persino mareggiate lungo le coste esposte. Ovviamente questa situazione favorirà anche, date le basse temperature, a copiose nevicate sui nostri rilievi, ma la quota neve si è ulteriormente abbassata, tant'è che potrà ancora nevicare intorno ai 6-700 metri, localmente anche a quote levemente inferiori, ma le nevicate più intense interesseranno le zone montuose, le zone rilievi al di sopra dei 6-700 metri, quindi una situazione questa piuttosto delicata per la nostra regione, dove si registrano già numerosi allagamenti e numerosi problemi, soprattutto nel vastesimo, ma in gran parte del vessante orientale dovrà fare conti ancora con il maltempo, almeno fino alla tarda mattinata e fino al pomeriggio. Poi dal pomeriggio la figura depressionaria, che ci interessa ormai da oltre 24 ore, questa figura depressionaria centrata sulle regioni meridionali tenderà gradualmente ad attenuarsi, ma soprattutto a spostarsi verso i vicini Balcani e ciò favorirà una graduale attenuazione dei fenomeni. Poi da domani un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, che si tradurrà ovviamente con un tempo decisamente migliore. Non mancheranno gli annuvolamenti, ma cesseranno le precipitazioni. E questa è una buona notizia, ma un'altra buona notizia riguarda la tendenza, non solo per le fine settimana, ma soprattutto per quel che riguarda la prossima settimana, in quanto una vasta area di alta pressione, l'anticiclone delle Azzorre pian piano avanzerà e favorirà poi un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte della nostra penisola nel corso dei primi giorni della prossima settimana. Miglioramento che favorirà poi un nuovo graduale aumento delle temperature, soprattutto sulle zone alto collinari e montuose. Insomma, ancora un po' di pazienza, ma comunque condizioni di maltempo nelle prossime ore, poi la tendenza è verso un graduale miglioramento. Poi deciso, il miglioramento sarà deciso, soprattutto nel corso della prossima settimana, Elisa. Bene, grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata, buon lavoro e personalmente un buon fine settimana. Grazie Elisa, un buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di T-Musei. E io ricordo, come sempre, che oltre al sito internet abruzzometeo.it, abruzzometeo.org, potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande, insomma, essere sempre aggiornati, soprattutto in tempo reale, perché Giovanni De Palma è sempre online, a giustamente far sapere quali saranno e quali sono gli aggiornamenti del tempo, insomma, essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria. Tra poco. Seconda parte di Mattino 6, continuiamo con la nostra rassegna stampa, ma passiamo alle notizie regionali. Dal quotidiano dell'Abruzzo, il centro, vediamo le prime pagine dedicate alle quattro province. Iniziamo con la provincia di Pescara. Mercati, revocate 30 licenze, mai pagata la tassa sul suolo pubblico, scatta la protesta. In centropagina, la fotonotizia inaugurata alla palestra della Casa Famiglia dell'Agbe, festa con la Cucarini per i bambini operati di ematologia. E nelle cronache, l'anticipo delle 21 in Romagna, Oddo con il Cesena, andremo all'attacco. Ambulanza sull'aereo per un cuore nuovo, da Pescara a Venezia, ed ancora Penne, punto nascita, altri 15 giorni di proroga. Ed ancora, ladri in fuga, contromano, con una Mercedes, saltano tre posti di blocco. Passiamo ora all'edizione, dedicata invece, alla provincia di Chieti. Lanciano e Vasto, vediamo come apre oggi il centro. Villapini, dipendenti, trasferiti, Chieti in 170 vanno a Pescara per scongiurare licenziamenti. Fotonotizia, la ruota panoramica più grande del mondo, firmata a Walter Tosto, presentata alla mega opera, che nascerà a New York. Nelle cronache, l'Asl non paga a rischio, il servizio 118, auto in fiamme, nella notte, il rogo è doloso, paura tra i residenti, in Lanciano e in Vasto, intrappola i ladri, dell'Eurospin, tre romeni. preso con la coca per lo scalo, giovani manette, la droga dello sballo, arriva da Scafa. Ed ora passiamo alla prima pagina, dedicata invece alla provincia di Teramo. Vediamo come apre oggi. L'apertura fuga per problemi di lavoro è una delle ipotesi sulla scomparsa della bancaria Tiziana. In centropagina il confronto sulla sanità, stop a l'Asl unica, il PD non è compatto, la sinistra si dissocia. Nelle cronache in Teramo, nuovi tagli sul personale in comune, il piano di Brucchi. Pali antisosta, scatenano l'ira dei negozianti, a Porta Madonna, sempre a Teramo, ed ancora invece in Val Vibrata, è da rifare il processo all'ex primario, parliamo di Sant'Omero. Falso istruttore di guida, non era abilitato, denunciati lui e il titolare dell'autoscuola, sempre a Teramo. Ed ora prima pagina, dedicata invece a l'Aquila, Avezzano e Sulmona. Vediamo oggi come apre. Con la cronaca, droga, ora spuntano le armi, l'Aquila allarme dalle intercettazioni fatte dalla polizia. In centropagina, Intex, 90 dei 120 ricercatori, sono a forte rischio, licenziamento. Nelle cronache, spacciava droga, condannato a 4 anni, ad Avezzano, e ancora Avezzano, la maggioranza potrebbe perdere pezzi, mentre in l'Aquila, grandi rischi, Vittorini accusa i politici locali. Si ritrova nudo sui siti porno, Sulmona, l'Uomo presenta un esposto contro la divulgazione. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, la città. Vediamo oggi come apre. In apertura sicuramente la storia della donna scomparsa da lunedì pomeriggio, Tiziana Balducci, 54enne teramana. Ecco, infatti scattano le ricerche in elicottero. Nessuna traccia di Tiziana Balducci, la 54enne madre impiegata di banca, scomparsa lunedì sera. In centropagina, Tercas, via libera al piano per evitare le contestazioni europee, il salvataggio bis. In breve, polemica sui parcheggi per l'arma, spending review totale sul personale, presidenza del Consiglio di Teramo, a rischio. Caserma e Tribunale, che confusione, Giulianova, la crisi politica, moltiplica ipotesi e soluzioni. Entriamo all'interno della città, vediamo la pagina dedicata alla regione, Mazzata Pil, l'Abruzzo fa peggio di tutti, ripresa solo in 7 regioni su 20, economia abruzzese e maglia nera nel 2014, con il suo meno 2,5%. Fondi europei a Pineto presentazione del piano PORFERSR 2014-2020 sul piatto, una cifra di oltre 230 milioni per i prossimi 5 anni. Animali, cane smarrito trovato dopo due mesi, aveva percorso 50 chilometri tra i monti. ed ancora vediamo in primo piano sempre ricerche senza esito per la donna scomparsa. Il telefono di Tiziana Balducci, 54enne impiegata in banca, continua a rimanere spento nessuna traccia della sua Y. La denuncia, la donna è scomparsa lunedì sera dopo rientro dal lavoro, la cercano polizia, familiari ed una catena di conoscenti tramite Facebook, familiari mobilitati e le ricerche stanno collaborando anche i familiari con una catena di contatti e di sopralluoghi. L'appello del marito, ieri sera il marito della donna ha pubblicato la foto della moglie e chiesto aiuto anche a chi l'ha visto. E noi su questo articolo ci fermiamo perché proprio ieri pomeriggio abbiamo avvicinato il marito, commercialista terramano Roberto Faragalli, che non vuole fare un appello diretto ma ascoltiamo cosa ha detto durante la nostra conversazione. Non ha voluto fare un appello diretto davanti alle telecamere il marito di Tiziana Balducci, la 54enne terramana scomparsa da oltre 72 ore. Roberto Faragalli continua a chiedere aiuto e fare appelli attraverso Facebook. Chiedo a tutti di far girare il più possibile la foto, quello che ci è capitato è un fulmine a ciel sereno, queste le sue parole durante la nostra conversazione. L'uscita del caso io non c'era, quindi c'era solo mia figlia. E non ha detto niente al bambino? Noi dormiva, mia figlia dormiva. Ok, nel pomeriggio. E poi non si è più fatta sentire, non è vedere. Lei c'è qualcosa che pensa nello specifico? I pensieri io? Puoi immaginare quando si succederà e quanti. La famiglia è molto unita, la nostra è molto religiosa. Lei pensa che abbia avuto uno stato depressivo? Non pensi a che cosa c'era, ma è le pensieri. Il giorno prima, scusi, la vista normale? O magari aveva, che ne so, qualche pensiero? La vista triste, la vista giù, la vista spaventata? No, per me è un fulmine a ciel sereno. Niente di strano era successo il giorno prima. E nemmeno lei l'aveva vista in maniera un po' spaventata, un po' pensierosa. Assolutamente. Niente di strano. Ma io è quello che mi chieda, comunque mi chiama, mandate il più possibile la foto in televisione e l'appello. Fate questo, sperando che possa in qualche modo vederlo. Oppure qualcuno che veda, lei, che ci dia qualche notizia. Dia qualche notizia a quest'ora. Parenti fuori ne avete? Sì, abbiamo fatto tutto. L'avete contattato. Io vi ringrazio dalla disponibilità che avete. Con i figli preferisco rimanere più in famiglia. Quando accadono queste cose, è una cosa che può aiutare una famiglia. Gli appelli in televisione, ma diretti, inutili, che lo faccio io, lo fa mia figlia, lo fa il piccolo. Mandate possibilmente la foto e la segnalazione, poi che Dio ci aiuti. Intanto proseguono le ricerche di Tiziana Balducci. La squadra mobile di Teramo, diretta dal vicequestore Gennaro Capasso, indaga sul caso di cui, a livello emediatico, si sta occupando anche la trasmissione chi l'ha visto. La 54enne, dipendente della filiale della BNL di Teramo, è scomparsa nel nulla lunedì pomeriggio. Da casa si è allontanata a bordo della sua auto una Lancia Ypsilon. Neanche del mezzo, finora vi sono tracce. Andiamo avanti, vediamo nel taglio basso della città, tra le cronache, istruttore abusivo, denunciata a scuola guida, due denunciati dalla polizia per falso ed esercizio abusivo di professione. Banca Tercas via libera al piano di salvataggio BIS per mettersi al riparo dalla procedura dell'infrazione UE si ricorrerà ad un fondo di garanzia volontario. Tercas è stata salvata con la ricapitalizzazione obbligatoria del fondo di garanzia interbancario e l'intervento di Banca Popolare di Bari. Salvataggio BIS, entro il 10 dicembre sarà costituito un nuovo fondo di garanzia con adesione volontaria delle banche interessate. Ed ancora D'Alfonso prova a spaccare il fronte anti-ASL unica. La riunione del PD spuntano i contrari ai contrari e alleggiano documenti fantasma, solito caos e nulla di fatto. Spesa del personale, ora siamo un comune normale. La politica di spending review degli ultimi anni dà i suoi frutti. L'incidenza sul bilancio ora del 22,54%. Porta Madonna, niente più parcheggi all'angolo tra via Spalato e via De Alventis. A sorpresa spuntano i paletti, commercianti inferociti. Ed ancora la sfiducia al presidente Milton diventa mozione. La vendetta della Cardelli raccoglie 11 firme, andrà al voto in consiglio tra i franchi tiratori. Ed ancora politica, la regione incontra il territorio in provincia. Oggi dalle 9.30 in poi il palazzo della provincia di Via Miglia a Teramo torna ad ospitare la regione, incontra il territorio, l'iniziativa voluta dal presidente della regione Abruzzo, D'Alfonso. Polemica sui parcheggi da concedere all'arma tra le perplessità. Il sindaco vorrebbe eliminare 12 stalli da via Savini per motivi di sicurezza della caserma. Erasmus stage all'estero per i diplomati all'ITG forti. Ed ancora idee per aiutare chi ha bisogno dal laboratorio CSV con il sostegno di Fondazione Tercas, Punto Europa e Comune di Teramo saranno finanziate tre proposte del centro servizi per il volontariato. L'allarme e i sindacati si mobilitano per i tagli ai patronati. Ed ancora vediamo le notizie della provincia. Neve abbondante nell'entroterra Teramano. Il maltempo colpisce la nostra provincia. Spazzaneve in azione lungo le strade di montagna e sulle autostrade. Anche per la mattinata di oggi sono previste precipitazioni sparse che si trasformeranno in neve sopra gli 800 metri. Con il passare delle ore la situazione migliorerà ma le temperature si manterranno basse. Campli, i bambini farnesi, protagonisti della festa dell'albero, piante da frutta e olivi saranno piantati nei giardini delle scuole. Montorio e 5 Stelle chiedono più collegamenti con l'UCCP, trasporti gratuiti per gli anziani che vanno al distretto sanitario. E' in provincia questa mattina l'incontro decisivo per il ponte ciclabile sul fiume Tronto in Val Vibrata. A Teramo, primario a processo per abuso d'ufficio. Ieri la prima udienza per il chirurgo plastico Michelangelo Milani. Il GUP e il giudice monocratico hanno rivisto per due volte i reati contestati al medico chirurgo. A Martinsicuro la minoranza chiede un nuovo consiglio sulla sicurezza. Ad Alvadriatica si schianta contro un albero per colpa della segnaletica. Auto in fiamme in via Duca degli Abruzzi a Martinsicuro intervengono i pompieri. A Giulianova ancora caos attorno alla nuova caserma. Tutti d'accordo per realizzarla all'annunziata. Intanto la giunta predispone l'utilizzo dell'ex tribunale. Le scuole, Laura Ciafardoni promuove intanto una petizione per trasferire le scuole del paese nell'ex palazzo di giustizia. Politica, sempre a Giulianova, il Movimento 5 Stelle. Pollice verso i neoassessori, volti già molto noti alla politica. Il piano regolatore. La giunta vuole retrocedere le aree edificabili dopo le richieste avanzate da molti cittadini. Vediamo invece a Roseto. È prevista per le prossime ore la riunione decisiva del gruppo Amo Roseto. Ciancaione, investitura tra le polemiche ad Atri. Nuova mobilitazione generale per salvare il punto nascita. Vediamo ancora Roseto. Il Natale rosetano si conclude con il concerto del volo. Gli eventi presentati ieri mattina dal sindaco Pavone e dall'assessore Urbini. Il quotidiano a scuola. La città, ospite dell'Istituto Moretti per parlare di giornalismo. Ed ora passiamo, lasciamo il quotidiano della provincia di Teramo. La città, torniamo al messaggero per vedere la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo. E così entriamo all'interno con le notizie regionali. Vediamo la prima pagina oggi del messaggero. Come apre? Eccoci. Pescara-Roma, veloce, si parte. D'Alessandro entro giugno. Che è di Trenitalia per un doppio collegamento quotidiano. Aeroporto, Ryanair, conferma i voli estivi per Barcellona. E Dusseldorf, manca Cagliari. Ancora obbligazioni in fumo. All'Aquila si apre il fronte. Banca e Truria. Mille risparmiatori sul piede di guerra avrebbero investito nei bond maledetti. E arriva la neve, subito allerta meteo. Mal tempo, primo assaggio d'inverno. La fotonotizia riguarda la località di Roccaraso. Entriamo all'interno. Quindi Pescara-Roma, veloce, entro giugno due corse al giorno. D'Alessandro parla di accordo già fatto con Trenitalia. Andata alle 5.30 per i pendolari, ritorno dalla capitale alle 18.00. L'attacco, lavori antifrane, niente soldi. Ed Alfonso fa retromarcia. Nel taglio basso, emiciclo, tesoretto per le mance. No, andrà tutto a bando. Di Pangrazio, i 200.000 euro in più per eventi tranquilli. Saranno iniziative di alta rilevanza sociale. Prima pagina dedicata all'Aquila. La sovrintendenza unica per il sisma, bocciatura dalla delibera Cipe. L'ultimo stanziamento per chiese e scuole designa il segretario come soggetto attuatore. La struttura fatica a decollare. Al momento resta senza portafoglio per i lavori della ricostruzione. Appalti, caserma Campomizi, cadono le accuse per del beato. E progetto case, il sindaco, bacchetta i benestanti, i morosi sono loro. Lavoro ancora nero il futuro per la Intex. La proprietà vuole tagliare 90 posti. Da Roma si attende la nomina del successore di Gagliardo. Per Fabrizi serve un atto entro il 2015. Operazione antidroga, cocaina per pagare l'infermiera. Sostanze stupefacenti per una ragazza in cambio di iniezioni. Tre arrestati. Entriamo all'interno. Avezzano, doppio senso via Roma. Il comune va avanti sul problema della viabilità. Aspra contestazione dei grillini. Altra scelta sbagliata. Si naviga a vista, come sempre. Anche il WWF mette in guardia sui pericoli di inquinamento. Ma per il sindaco la decisione è presa e non si torna indietro. Sul Mona il PD minimizza, ma in comune c'è area di crisi. Scanno, bando deserto, timori per gli impianti. Ed ancora sul Mona quasi un anno di attesa per un'ecografia urgente. Ad Avezzano rifiuti, smaltimento illecito allo zuccherificio. L'ex custode dello stabilimento cittadino è finito sotto processo. Sempre ad Avezzano condannato a quattro anni per possesso di droga. Prima pagina dedicata a Pescara. Mercato etnico, sì al tunnel con regole certe e sicurezza. Consiglio comunale ad alta tensione, ma passa la linea della maggioranza. Centrodestra e Movimento 5 Stelle. Gli immigrati vanno recuperati nelle strutture rionali. Difida del 5 Stelle. Emergenza mai risolta da cinque sindaci. Aeroporto Ryanair voli scontati e sette rotte per l'estate. Confermati nel 2016 collegamenti per Barcellona, come abbiamo visto prima, ma niente da fare per Cagliari. Solidarietà torna alla colletta alimentare per 38 mila poveri abruzzesi e 30 ore per la vita. Lorella Cuccarini inaugura la palestra di casa Agbe. La showgirl esulta riempito. Uno spazio rimasto in sospeso. Massimo parenti. I piccoli potranno fare riabilitazione. E anche su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video di Francesca Romana Testi. Un nuovo traguardo per l'Agbe di Pescara. L'arrivo della madrina Lorella Cuccarini in casa alloggio è sempre fuoriero di novità. E questa mattina, tra gli occhi sorridenti di bambini e genitori emozionati, la più amata dagli italiani insieme alla presidentessa di 30 ore per la vita, Rita Salce, ha inaugurato una palestra per la riabilitazione dei baby pazienti. Un tassello in più che si aggiunge alla lunga storia che lega l'Agbe all'associazione e che Lorella Cuccarini ha ripercorso ricordando i momenti più importanti di questo viaggio per sostenere i bimbi dell'associazione. Un obiettivo che completa un lavoro già tanto importante che era quello della casa. Abbiamo inserito anche questa palestra per la riabilitazione perché ci chiedevano, soprattutto per il decorso post-operatorio dei bambini o queamatologici, di poter soffrire di una palestra. Oggi c'è anche la palestra. Insomma, penso che veramente oggi Pescara possa essere l'ospedale di Pescara, il reparto comatologico-pediatrico di Pescara, possa essere un centro di riferimento per tutta la regione e anche per il sud Italia. Nell'Orella Cuccarini oggi ha voluto ricordare per lei quali sono state le tappe più importanti dal primo fax alla costruzione della casa alloggio. Che vuol dire? Vuol dire che ci seguono, che hanno accettato i nostri progetti perché li hanno ritenuti più che validi, ma soprattutto parliamo sempre di bambini. Essere presenti con loro vuol dire anche dare un aiuto per quello che sarà il futuro. Di tutte le realizzazioni di 30 ore qui a Pescara per l'Agbe, quella più importante che ricorda qual è? Beh, sicuramente quella che mi ha dato più emozione è stata il reparto, la nascita del reparto, perché quando noi siamo arrivati qui la prima volta i bambini erano in cura insieme agli adulti e questo sicuramente era un grande problema per loro per cui riuscire poi a creare questo reparto e tenerli separati e dar loro proprio anche una qualità di cura che non sia solo quella medica ma che sia anche un approccio psicologico per i bimbi e per le famiglie è diverso, è stata una grande conquista. E poi sicuramente quello più faticoso, proprio perché importante dal punto di vista economico, è stata questa casa, ci abbiamo messo 3-4 anni, però insomma i risultati poi si sono visti, il fatto che sia sempre in opera e che sia sempre piena e che anzi Massimo Parenti ci chieda anche di poter pensare a un'ulteriore casa per il futuro, insomma ci fa rimanere sempre molto vicini all'Agbe, a questa realtà che è una realtà che lavora sul territorio veramente molto bene. Ancora Pescara, sono viva, ho vinto, la Bucci racconta l'orrore di Auschwitz, sopravvissuta al campo di sterminio, oggi 78enne, ha commosso gli alunni del liceo classico con la sua storia. Vediamo in breve centenari oggi e domani all'Aurum, grande guerra, esperti a confronto. Ed ancora, rivoluzioni, portale web e piste ciclabili in rete, rinnovato a Pescara, il sito comunale dedicato alla mobilità, informazioni in tempo reale su strade, lavori, ZTL ed eventi. Sabato il confronto pubblico con il popolo delle due ruote per riuscire, per ricucire la mappa dei 20 chilometri di percorsi dedicati. Il progetto della discordia Ponte del Cielo, il comune farà ricorso al TAR, l'amministrazione comunale presenterà ricorso al TAR contro il diniego della soprintendenza alla realizzazione del Ponte del Cielo, la conferma arrivata dal vice sindaco Enzo Del Vecchio. La visita a Montesilvano, la Stella Maris incanta, il critico Bonito Oliva. Ed ancora, prima pagina dedicata a Chieti, università, tornano i rimborsi ma sono ridotti, scatta la protesta, fondo accessorio, la funzione pubblica CGL, insulto a tutti i lavoratori. Lavoro, Tales, il 5 dicembre, in scadenza la CIGS, ed ancora vediamo in breve il blitz, mezzo chilo di droga nascosto nel garage, disoccupato di 34 anni in manette, preso un albanese. Cultura, gli allievi del Pandora presentano due spettacoli, nel taglio basso invece i lavori, ospedale trasferita a neurologia, oggi cardiologia, e nella foto la cardiologia dell'ospedale della nuova palazzina. Ed ancora, vediamo a Lanciano, stop alle ambulanze, se l'ASL non paga il fronte delle cooperative che operano sul territorio è compatto e da lunedì minaccia la sospensione del servizio della vicenda. Verrà interessato anche il prefetto, in vista corteo di protesta sotto gli uffici dell'enconomato. San Salvo, presa donna russa per maltrattamenti, ed ancora Lanciano, altra auto incendiata nella notte, sale a 4 il bilancio dei veicoli andati in fiamma in 10 giorni. Il proprietario è un meccanico. Vasto si è spenta la mitica Lucia Molino, benefattrice anima degli anziani. San Salvo, manifestazioni natalizie, il comune gioca d'anticipo. Ed ora, vediamo la prima pagina dedicata a Teramo di Sabatino. Verso la sfiducia cresce la fronda bipartisan. Il presidente del Consiglio Comunale potrebbe decadere già lunedì prossimo. Al suo posto, Franco Fracassa, di futuro in. La votazione avverrà a scrutinio segreto. Viabilità, cancellati i 12 parcheggi gratuiti, è polemica. Ed ancora il caso, nessuna traccia di Tiziana, indagini anche con l'elicottero. La Diatriba, via Carducci, il caso Libreria, salva la destinazione d'uso. E ancora il Blitz, istruttore non abilitato. Le patenti sono a rischio. Provincia, allarme per rata da 1,2 milioni. L'ente chiederà la ricontrattazione per evitare rischi contabili, sfruttando sentenze già favorevoli. Sulla costa, Giulianova esce dall'ospedale e trova la casa occupata. Una coppia vi si è insediata dopo aver sfondato la porta e successivamente cambiato la serratura. L'anziana ha chiesto aiuto ai familiari, che poi sollecitano l'intervento del comune e dei carabinieri. La vicenda era stata segnalata alla procura con la proposta di sgombero. Al Badriatica lotta le fogne abusive per riprendere la bandiera blu. Martinsicuro, cultura alla riscossa, premio alla Camaioni. A Santomero inizia il vero processo per l'ex primario. Dopo cinque anni la procura ha stabilito i capi di imputazione contro Milani. A Giulianova sempre barca multata di 52 mila euro, a rischio 15 marittimi. L'armatore accusato di inquinamento ribatte, non fu colpa nostra. E a Giulianova la lista. Giulianova attacca i consiglieri del PD. A Roseto, scuola schiazza, petizione di 130 genitori. Ed ora passiamo ad Abruzzo Sport. Vediamo la pagina sportiva. Pescara, esame di laurea. Questa sera nell'anticipo i biancazzurri impegnati in uno scontro diretto al vertice sul campo del Cesena. Oddo sarà una sfida che può offrire grande spettacolo tra due formazioni che amano sempre condurre il gioco. E questa è una delle frasi che ha detto durante la conferenza stampa, che si è svolta ieri pomeriggio. Lo ascoltiamo nel servizio. In partire si risolvono con tutto. Non si risolve solo con una cosa sola. Ci vogliono tante componenti. Io mi auguro che, come al solito, proveremo ad andare a fare la nostra gara. Di sicuro non ci chiuderemo. Di sicuro tenteremo di avere sempre il pallino del gioco. Poi ovviamente davanti abbiamo una squadra forte, una squadra che anche essa ama avere il pallino del gioco. E quindi lì conteranno anche due le individuali, agonismo, la testa, la cattiveria, la voglia di vincere. Quindi tante componenti fanno sì che una squadra possa preparare sull'altra. È impensabile che l'uno o l'altra possa avere il pallino del gioco per 90 minuti. Quindi ci sono anche momenti della partita in cui bisognerà soffrire, altri in cui bisognerà essere più incisivi magari con il possesso palla. La storia dei campionati ci insegna che non sempre, spesso, quelle che sono più accreditate poi alla fine non sono le vere rivali. Ma ci sono altre squadre che fanno meglio, anche squadre inaspettate. Sta facendo un grande campionato il Crotone. Molte squadre, secondo me, possono rientrare. Il Novara è una signora squadra. Perugia è una grande squadra che ha avuto difficoltà ma sicuramente può rientrare. Quindi il campionato è molto lungo. È ovvio che in questo momento del campionato stare nelle prime posizioni è un bel vantaggio perché vuol dire che hai fatto bene, vuol dire che stai costruendo qualcosa di importante. Però non mai abbassare la guardia perché sappiamo benissimo che bastano due partite sbagliate poi per essere risucchiati nella metà della classifica, anche perché stanno a 3-4 punti, non è che ci sono più punti. Una certezza che credo che ci sia in questa partita è che ci sono due squadre che giocano a calcio, che provano a giocare sempre a calcio. Poi a volte ci riescono, a volte no, però sono due squadre che giocano. Quindi credo che sia una partita divertente, ma non è detto. Perché può assicurare che due squadre che giocano a calcio bene si possano annullare. Una di quelle cose che ti fanno pensare, che comunque sei capace di creare entusiasmo, di divertire il pubblico, è il fatto che questo ti segua. Sia in casa che fuori, avere 700-800 persone che vengono fuori casa è un bel segnale e sicuramente può essere una di quelle componenti che fanno sì che tu possa avere un'arma in più. Ed ancora sul Pescara vediamo la vigilia Caprari a rischio, all'influenza, Fiorillo bloccato dalla frattura al setto nasale, tra i palice arresti per l'attaccante si decide in estremis. Sempre serie B, da Versa, Lanciano si vince con i dettagli. Ed andiamo ancora avanti, vediamo il calcio di Lega Pro, Teramo novità in vista, Vivarini prova il 4-4-2, Paolucci si candida, deciso a ripagare la fiducia del tecnico. Calcio a 5, tra Acqua e Sapone e Pescara, un derby spettacolo, grande rivalità, motivi di classifica e tanti ex in campo sono garanzia di una sfida appassionante al Palaroma, soprattutto sul piano agonistico. Torniamo al calcio di Lega Pro con l'Aquila, strada in salita per la scelta dei rinforzi, difficile arrivare all'ingaggio del difensore ex laziale Illari e ai teatini Verone e Dos Santos. Palla a mano, Città Sant'Angelo lancia la sfida alla capolista Fasano. E con la pagina dedicata allo sport termina la nostra rassegna stampa, quindi l'appuntamento con Mattino 6 termina qui. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento.